Buongiorno e bentrovati con questa edizione di Mattino. 6 di sabato 7 gennaio 2017, l'Abruzzo nella morsa del ghiaccio, del gelo, della neve, questo è il fatto caratterizzante le ultime ore, anche questa notte è trascorsa con temperature polari, con tanta neve. Più tardi vedremo anche delle immagini piuttosto fresche, tanti i disagi in particolare alla circolazione, disagi che hanno portato anche alla chiusura di strade importanti, come ad esempio la strada statale 17, tra Sulmona e Roccaraso, ma disagi ad esempio anche nell'aeroporto d'Abruzzo che ieri è stato chiuso due volte, sarà verosimilmente riaperto questa mattina, se ce ne sarà la possibilità e tempo permettendo, ma comunque tanti disagi soprattutto legati alla circolazione. Andiamo a fare un resoconto di quanto è accaduto nelle ultime ore, ovviamente con l'ausilio dei quotidiani. Iniziamo da quelli abruzzesi con le prime pagine, possiamo vedere subito le quattro edizioni del centro, se è possibile. Ecco qui, Abruzzo, freddo, neve e proteste, strade bloccate, non so se forse c'è qualche problema nell'acquisizione delle immagini, allora ritentiamo la connessione con il nostro iPad per cercare di verificare subito quanto è accaduto nelle ultime ore della nostra regione. Probabilmente c'è qualche problema legato alla rete. Allora facciamo una cosa, un primo resoconto lo facciamo attraverso i servizi realizzati ieri dalla nostra redazione del TG6. Intanto vediamo questo servizio di Francesca Romana Testi che fa il punto della situazione. Ondata di maltempo in Abruzzo, freddo, neve e raffiche di vento su tutta la regione con fenomeni più severi nell'entroterra. Nella serata di ieri è stato dichiarato il codice rosso per la situazione riscontrata sulla A14 con il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Disagi chiusi al traffico per le abbondanti precipitazioni, la statale 17 della Penina Abruzzese dal chilometro 107 al 149, la statale 5 Tiburtina Valeria dal chilometro 135 al 155, traffico rallentato per il nevischio sulla statale 714, tangenziale di Pescara dal chilometro 0 al chilometro 5 e 6. Nella mattinata è stata comunicata la chiusura dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo fino alle 13, problemi di circolazione anche per la società di trasporto Unico Tua, che nella serata di ieri ha comunicato l'interruzione delle corse per Torricella, Pizzoferrato e Montenero Domo per la provincia di Chieti, e per Isola del Gran Sasso, dove un bus ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Forti nevicate nell'Aquilano, a Sulmona, 60 centimetri di neve, un metro a Roccaraso e neve in tutti i comuni della Valle Peligna. A Roccaraso si circola con gomme termiche o catene, a lavoro mezzi spargisale, ma si prospetta un weekend soleggiato e pieno di neve per gli impianti sciistici. Imbiancata anche la costa pescarese, che non ha riscontrato particolari criticità per la viabilità, tranne le segnalazioni riguardanti i detriti portati dalle forti raffiche di vento. Problemi invece per i colli, dove ieri si è registrata la temporanea interruzione del servizio elettrico e la formazione di ghiaccio nelle strade interne. Chiusi con un'ordinanza da ieri e fino al prossimo 7 gennaio, parchi cittadini e cimiteri per evitare la caduta di rami. L'autostrada che collega l'Aquila e Pescara con Roma è percorribile solo con dotazioni antineve. A Lanciano il ghiaccio è il maggior pericolo riscontrato nella mattinata sull'intero comprensorio frentano. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia per le auto in panne. 10 cm di neve in centro e 25 nelle zone alte. A Tessa ha raggiunto quota 50 cm di neve, che raggiunge il metro nel medio-alto sangro come Pizzoferrato, Monteferrante, Schiavi d'Abruzzo e Castiglione-Sermarino. Nevicate abbondanti anche sul Terramano, dove operativo il piano neve della provincia di Teramo, che rende nota la presenza di 44 mezzi privati, contrattualizzati con il servizio a chiamata e monitorati con il GPS, che consente tracciabilità dell'operato e razionalizzazione negli interventi. Particolare attenzione, viste le previsioni meteo, è dedicata alla costa, dove i cittadini sono meno abituati ad affrontare bufere di neve. Presidiata tutta la montagna e in due zone, le provinciali che conducono agli ospedali di Atri e Santomero, sono previste postazioni fisse per far fronte ad eventuali situazioni critiche. I mezzi dell'ente presidiano la 259 della Vibrata. E allora possiamo vedere le pagine dei quotidiani, ecco qui le quattro edizioni del centro, Abruzzo, freddo, neve e proteste, strade bloccate per il ghiaccio, disagi sulle strade, impianti chiusi a Roccaraso. Poi sotto la testata, Abruzzo fortunato con tre biglietti da 50 mila euro, ieri infatti le stazioni dei biglietti della Lotteria Italia. Poi se vincessi 5 milioni, Cialente, Andrea Manhattan per Noemi, una casa su misura. E poi vediamo ancora, ci sono questi richiami all'interno, 5 morti, spara e uccide l'aeroporto in Florida. La denuncia, Renzi minacce di morte su Facebook. Provincia, si vota domani a Pescara, Teramo e Chieti. E poi ancora in basso, perché il volo non canta per Trump, il rifiuto del gruppo del Rosetano Ginobile, è xenofobo e razzista. Poi i richiami di spalla, soccorse in un giorno, 50 persone a Chieti. Poi a Lanciano, Cavo si brucia in 300 senza luce, a Vasto, morto l'anziano ustionato nel caminetto. E poi ancora lutto a Chieti, Casina di Tiglia, Dio al papà, More Gabriele Zuccarini, creò il bar della villa comunale. Poi sempre a Chieti è invalida, ma l'Inps le taglia la pensione. Questa era l'edizione di Chieti. L'edizione dell'Aquila, leggiamo i richiami di spalla. Roccaraso sulla statale 17, automobilisti intrappolati. A Maliano di Marzi, tentata truffa matrimoniale straniero nei guai. A Montereale, 16 scosse in due giorni, torna la paura. In basso, Gran Sasso, scontro sui vincoli. Forza Italia attacca D'Alfonso, che replica nessuna catastrofe. Poi all'Aquila, pianeta maldicenza. Oggi la grande tombolata. L'edizione ora di Teramo, con i richiami di spalla. Neve e gelo in tutta la provincia. Il caso di un pensionato, salva la casa, grazie alla legge antisuicidi. A Roseto e Pineto vanno a fuoco i sottotetti di due abitazioni. Poi ancora, in basso per il basket, Roseto torna alla vittoria. Netta affermazione sulla Verona, al Palamaggetti. Giulia Nova, abbandoni e litigi nella riunione sulla sanità. Poi ancora, siamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Abruzzo nella morsa del ghiaccio. Emergenza sale in molti comuni nel Teramano. Stasera il picco del gelo sul Gran Sasso, registrati meno 20 gradi, in particolare sul rifugio Franchetti, nel versante Teramano del Gran Sasso. A Giulia Nova, a Giovanardi, non piaceva il bilancio preconfezionato. Le ragioni delle dimissioni dell'assessore. E poi ancora di spalla, Giulia Nova, nuovo baluardo della liuteria con Tribotti. Roseto e Pineto, due villette distrutte dalle fiamme. Poi sempre in basso, viabilità hanno nuovo, problemi vecchi, il bilancio delle promesse non mantenute da Brucchi. E poi in basso, per la cronaca, a Sant'Egidio, pronte le medie al centro fiere. Per lo sport, basket di A2, Roseto suona la nona, non c'è scampo per Verona, 81 a 65. Prima pagina del messaggero Abruzzo, neve e gelo su tutta la regione, questo è il titolo di apertura. L'alto sangro in ginocchio, statale 17 chiuso, automobilisti intrappolati e paesi isolati, strade bloccate e polemiche. A Pescara e nel Teramano, manto di oltre due metri, a Schiavi d'Abruzzo. Sotto la testata, Epifania, il tempo a Pescara non ferma, la vecchina che arriva dal mare. E sempre, per quanto riguarda l'Epifania, il bilancio della fiera all'Aquila, bilancio ok, già si pensa all'edizione 70. Serie A, 80 voglia di salvezza, Bovo, dà la carica al Pescara, il nuovo difensore, Biancazzurro, dice, sono arrivato con grandissime motivazioni, non mi sento a fine carriera, voglio rimettermi in gioco. E poi, di spalla, troviamo quest'articolo, della poetessa, Daniela Quieti, quella colta e bianca, tra poesia e paura, ovviamente, riferito alla tanta neve, scesa sulla nostra regione, che tuttora sta scendendo, proprio in questo momento. La foto, notizia, io, prigioniero nel bus, per 20 ore, crolli e incidenti, la conta dei danni, da Teramo a Montorio, numerosi gli incidenti che hanno coinvolto, soprattutto mezzi pesanti, la disavventura più grossa, è capitata ai passeggeri del bus, della tua, diretto da Napoli a Pescara, sono rimasto prigioniero, per 21 ore, racconta un pendolare, che era a bordo. E poi ancora, case sul mare, il pasticcio, e bipartisan, Pescara Porto, il sindaco, ritirerà la delibera, il Movimento 5 Stelle, attacca anche la vecchia giunta. E poi anche sul messaggero, trova spazio il no, il gran rifiuto del volo, all'invito del neopresidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E poi in basso, Avezzano, il caso meningite, sempre grave, la donna colpita. Possiamo lasciare, per ora, le pagine dei quotidiani abruzzesi, ora facciamo una panoramica, sui quotidiani nazionali, sulle prime pagine, vi dico subito, che il maltempo, non troverà la stessa vasta eco, che ovviamente, riserva a questo fatto, riservano i quotidiani locali, a questo fatto, che riguarda molto più, la nostra regione, ma in generale, quelle delle dorsali adriatiche, con anche i centri colpiti, dal sisma, nella morsa, appunto, del ghiaccio. Però, i titoli principali sono altri, qui partiamo dall'avvenire, le navi dei veleni, rifiuti tossici verso l'Africa, un ex 007, rivela in passato, alcune affondate, e il traffico continua. Poi ancora, la prima pagina del Corriere della Sera, le prove degli 007, Putin ordinò di aiutare Trump, il neopresidente, possibile un ruolo tra gli hacker. Poi la fotonotizia, arma in valigia, fa una strage nell'aeroporto in Florida, il killer è psicolabile, 5 morti e 8 feriti. Poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, dove è finito il principio di autorità. E poi ancora, ecco qui la bufera che divide l'Italia, emergenza per i senza tetto. Prima pagina del Fatto Quotidiano, ecco l'apertura, sul caso Consip, Romeo indagato per Camorra, lancia messaggi a Renzi e Lotti, i legali dell'imprenditore, inchiesta strumentale per colpire le alte cariche. Poi polemica a Napoli, tra il sindaco De Magistris e lo scrittore Saviano, De Magistris e Saviano, le due Napoli in guerra, fai affari sugli spari, la risposta populista. Poi sotto la testata, a volte ritornano McDonald's ovunque, un panino ci seppellirà, dall'apertura in Vaticano al film. Poi cara di Mineo, così io e Castiglione truccammo l'appalto, indagini chiuse per il sottosegretario dell'NCD. Avanti ancora con il gazzettino, immigrati record, 180 mila sbarchi nel 2016, arrivi in grande crescita, solo 2.654 trasferiti in altri paesi dell'Unione Europea. La Lega, Renzi, ha mentito. CIE in Veneto, ovvero i comitati per l'identificazione e l'espulsione. Tosi candida Verona, Padova dice no alla base di Abano, pronti alla rivolta. Avanti con il manifesto, saranno famosi da Springsteen a Jay Zed, tutti a salutare Obama e Michelle ieri alla Casa Bianca, prima del comizio d'addio di Baracca al popolo americano. martedì a Chicago, repubblicani spaccati sul fronte russo, il ruolo di Putin nella cyber war, Trump in difficoltà, parla di caccia alle streghe. Poi in basso, sempre sulla prima pagina del manifesto, De Magistris Saviano, duello e colpi bassi, scontro tra il sindaco di Napoli, che replica agli attacchi dello scrittore. Il mattino, infatti anche qui si riprende questa polemica, il mattino quotidiano di Napoli, che parla dei duellanti. E poi Gentiloni, lavori senza scadenze, boccia, riforme non si torna indietro, migliorare i voucher, il Jobs Act funziona. Avanti ancora con il messaggero, una talpa scuote la giunta Raggi, dopo l'affermazione di Romeo, sapevamo delle cimici, caccia a chi ha informato il Campidoglio, il sindaco nulla da nascondere, Grillo non la difenderò come sempre, la procura, niente micro spie. Poi la fotonotizia, CIA, Putin ordino di influenzare il voto, ma non ci furono vantaggi per Trump. In Florida, spari in aeroporto, cinque morti, catturato il killer, un militare ispanico. L'editoriale di Alessandro Campi, dedicato alla politica, patto anticasta, 5 Stelle e Lega, il laboratorio di una strana, alleanza. Poi in taglio medio statali, la carriera legata ai contratti, non più ai concorsi. L'ipotesi riguarda le promozioni intermedie, scure sui permessi e sui distacchi sindacali. Il secolo XIX, io arruolato in carcere dai jihadisti, traffico di auto e fondi terroristi, nuova inchiesta aperta a Genova. Il tempo, detenuti stranieri, obbligati a scontare la pena in Italia. Nel 2016 circa 800 carcerati hanno chiesto di tornare in patria, ma non lo hanno potuto fare per le lungaggini dei tribunali di sorveglianza. Poi anche la Befana dimentica Roman, lotteria Italia, nessun tagliando di prima categoria, nel capitale, nel Bergamasco, 25 milioni. L'unità, nient'altro che la verità, Saviano ricorda i guai di Napoli, e De Magistris lo attacca come fecero i boss. Speculi per arricchirti. Il Cardinale SEPA ringrazia i migranti antipizzo, e l'Europa elogia l'Italia per l'accoglienza. Poi ancora, la Gazzetta del Mezzogiorno, anche qui si parla di migranti, record di arrivi, quasi 200 mila nel 2016. E poi la Repubblica, italiani impauriti e stanchi dei partiti. Nella politica c'è più corruzione, rapporto Demos sullo Stato, poca fiducia nelle istituzioni, piacciono il Papa e le forze dell'ordine. Poi sotto la testata alla CIA, Putin diede l'ordine, aiutate Trump a vincere, e di spalla De Magistris contro Saviano. Lo scrittore, dico soltanto la verità. La stampa, mi hanno reclutato nelle carceri italiane per fare il terrorista, uno spacciatore turisino in cella per tentato omicidio. Io, jihadista, grazie a un egiziano, sapeva tutto di me. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani nazionali e torniamo sulle pagine dei quotidiani locali. In particolare, ripartiamo dal centro, pagina 2 e 3, si parla di Lotteria Italia. Questa è la situazione in Abruzzo, dove arrivano tre premi da 50 mila euro, la super vincita dei 5 milioni in provincia di Bergamo. Ecco qui il biglietto che ha vinto la Lotteria, ha vinto i 5 milioni di euro, serie Q, 4-2, 5-8, 4-0, venduto a Ranica, in provincia di Bergamo. Poi, altri biglietti milionari, quelli venduti in provincia di Cosenza, a Milano e a Livorno, 500 mila euro a Milano. Poi, per quanto riguarda i biglietti, tra i 50 premi dai 50 mila euro, tre appunto sono nella nostra regione, un biglietto venduto a Chieti, Q, 4-4, 5-0, 3-6, questa è la serie vincente, un altro venduto a Raiano, in provincia dell'Aquila, F, 2-4, 4-3, 7-6, e poi un altro venduto a Lanciano, di 0-1-8-6, 2-0, insomma, tanti auguri a chi si è aggiudicato, questi premi, ma non tutti, ritirano i premi milionari, nel 2002 non riscossi 2 milioni, in Abruzzo nel 2015, dimenticato un tagliando da 1 milione, e poi ancora, se vincessi quei 5 milioni, Cialente, Andrea Manhattan, papà di Noemi, una casa su misura, il primo cittadino, la sindacalista, l'avvocato, l'artigiano, l'imprenditrice, i desideri e progetti degli abruzzesi, che sognano il tagliando fortunato, poi, ecco qui, l'argomento dell'ultime ore, ovvero, il freddo e la neve, l'Abruzzo tra gelo e proteste, l'aeroporto si blocca, l'ira dei passeggeri, odissea senza fine, per 150 turisti, accampati a Pescara, e poi disagi anche nello sport, molte gare rinviate, a rischio Pescara-Fiorentina di domani, oggi la federazione sospende il programma dei direttanti, a proposito da ieri sera, in prima serata, è ufficiale il rinvio delle gare di serie D, del girone F, delle due abruzzesi, Pineto e San Nicolo, non si giocheranno né Fermana-San Nicolo, né Campobasso-Pineto, mentre ovviamente già si sapeva, che non si sarebbe giocata Chieti-Vastese, per l'abbandono del Chieti. Tornando al maltempo, temperature a meno 28 gradi, vittime per il freddo, in Molise soccorse, 20 persone bloccate. E ora andiamo con le pagine della cronaca in Abruzzo, elezioni provinciali al voto per i consigli, assenti Movimento 5 Stelle e Sinistra, domani si rinnovano le assemblee di Teramo, Chieti e Pescara. Gli eletti non perceperanno alcun compenso, resteranno in carica due anni, i presidenti quattro, problema per le nuove assise, la chiusura dei bilanci, in forte difficoltà per i tagli del governo. E poi ancora a Pescara, tre liste con l'incognita socialista, i candidati di D'Ambrosio potrebbero fare la differenza. A Teramo, Gatti punta a scalzare il PD, ma i numeri in campo non favoriscono il centrodestra. E poi effetto maltempo a Chieti, spostare le urne al 15. La richiesta viene dalla cosiddetta lista dei sindaci. Molti comuni sono isolati, le strade sono impraticabili, le autostrade chiuse, abbiamo altro da fare. D'accordo con lo spostamento della data anche il sindaco della città, Umberto Di Primio. E invece all'Aquila si cerca il nuovo sindaco, partiti in alto mare nella scelta dei candidati. Lolli in forse avanza Pietrucci. Andiamo ora con le pagine di Pescara. Sempre emergenza maltempo, la città scivola sul ghiaccio, il comune dimentica il sale, disagi e proteste, rotti i mezzi spalaneve della provincia. Oggi bus gratuiti. Poi ancora in provincia, in particolare appenne, 75 famiglie bloccate, due contrade senza luce, operazioni di soccorso a grande intensità nel centro e nelle frazioni della città. Numerose le chiamate per i farmaci, il trasporto dei dializzati in ospedale. Qui tanti scatti che ritraggono il freddo, la neve, il gelo e anche i disagi per la circolazione. Turisti con una bimba salvati dai volontari. A Sant'Ufemia il sindaco Crivelli coordina i soccorsi ai villeggianti sotto una coltre di un metro. Avanti ancora, cambiamo argomento. Ospedale allo stremo, emergenze infermieri, la ASL rivede le mansioni, il caos a Medicina Est, riapre la questione del personale fuori posto. Pasqualone della Fialz, il problema imboscati e degenerato, ne fanno le spese pazienti e personale non protetto, con 50 posti letto da seguire. Poi Petrini della CGL, le assunzioni devono sopperire la carenza d'organico, occorre una sana gestione del personale, gli errori li pagano, i ricoverati. Poi in basso leggiamo Falsi clown dottori chiedono soldi in strada. L'associazione dei volontari che portano sorrisi ai piccoli in corsia spiega come difendersi dalle truffe. E poi questa storia particolare, la storia di Francesco Cipollone, a 23 anni, è il testimonial delle donazioni di organi. Colpito da una rara patologia dopo l'esame di maturità, ha subito l'intervento, poi ha fondato l'associazione pescarese tra i piantati di rene, che ha già 40 iscritti. Il giovane francavillese vuole sensibilizzare i cittadini anche sull'importanza di ridurre le liste di attesa. Vorrei ridare alla società un po' di quanto mi è stato dato. Proseguiamo con la cronaca. Pensionata, scippata e ferita, un arresto, aggressione a San Donato, in due spingono a terra la donna e le strappano la borsa con 1000 euro. Il primo viene preso, il complice riesce a fuggire. E poi ogni giorno dalle 16 alle 20 saldi, bus navetta per il centro e Confesercenti lancia l'allarme. Troppi parcheggiatori abusivi. Avanti ancora, sempre a Pescara, palazzo da demolire, i lavori ad aprile per l'edificio pericolante di Viale d'Annunzio. In corso le ultime perizie prima dell'intervento, ma è già pronto il progetto per costruire un nuovo fabbricato di 10 piani. Il personaggio, Eriberto, è l'elicottero quando la Befana scendeva dal cielo. I figli Anita e Luca, migliaia di bimbi, gli andavano incontro. Vorremmo un evento simile nel 2018 a 10 anni dalla morte. E poi, che feste all'ospedale Almarina, iniziativa della Società Salvamento, della Misericordia e dell'Arca. Qui vediamo la Befana che ieri è arrivata dal mare, in particolare dal Porto Canale per la gioia dei più piccoli. Siamo a Francavilla. Rifiuti e infrazioni stradali, in calo le multe dei vigili urbani. Nel 2016 sono nettamente diminuiti i verbali contestati dalla Polizia Municipale. Molto utile è stata l'introduzione della tecnologia con fototrappoli, Targa System e Auto Velox. Montesilvano, opere pubbliche, Cozzi, i lavori in Via Lazio dovranno ripartire da zero. Un cantiere fermo da tre anni. L'assessore risponde ai 5 Stelle sui ritardi dovuti a un lungo contenzioso con la ditta, ma conferma tempi lunghi sulla ripresa degli interventi di riqualificazione urbana. Avanti ancora, Lea e Totò liberati dalla catena. A Moscofo intervengono i carabinieri e la ASD per restituire dignità ai due animali. A Città Sant'Angelo invece è bocciato il porta a porta della Linda S.P.A. La minoranza cita un parere della Corte dei Conti che dice alle nuove assunzioni. Pagine di Chieti, il Conad taglia il 30% dei dipendenti. L'azienda parla di calo di vendite e gli esuberi sarebbero circa 45 la prossima settimana. Incontro con i sindacati. e poi in maltempo la mareggiata divora la spiaggia devastate gli stabilimenti di Casalbordino due metri di neve a schiavi d'Abruzzo. Ecco qui questa immagine piuttosto eloquente. E poi ancora è morto l'anziano ustionato dalle fiamme del caminetto a Casalbordino. Il personaggio muore Gabriele Zuccarini fondò la casina dei Tigli l'imprenditore aveva 92 anni l'addio alle 10 a San Francesco da Paola il figlio Massimo calmo e riflessivo ci ha insegnato come si realizza un sogno. Sanità in basso addio al centro calcolosi accorpato all'urologia da lunedì il reparto a Chieti creato dal compianto dottor Andrea Zezza sarà diretto da Nicolai nessun disagio per i malati tutto funziona come prima. Rapidamente anche con le pagine di L'Aquila e Teramo del centro Marsica le nozze col trucco fiuttata la trappola il matrimonio salta il PM lo straniero voleva sposare una giovane succube di lui per ottenere la cittadinanza e la comunione dei beni indagata anche la vera fidanzata del marocchino ritenuta complice del raggiro la cerimonia doveva tenersi nel luglio dello scorso anno a Magliano dei Marsi intanto torna la paura in particolare a Montereale 16 scosse in due giorni l'epicentro nell'alta valle a Terno ma a prensione anche all'Aquila massima magnitudo 3.3 avanti ancora con la pagina di Teramo il giudice riduce il mutuo la casa è salva pensionato non riesce più a pagare le rate grazie alla legge anti suicidi allungati i tempi di restituzione e poi in basso a Rossetto e Pineto roghi in due case incendi nei sottotetti ma occupanti illesi vigili del fuoco a lavoro per ore infine Beccaceci chiuso è un danno per tutto l'Abruzzo le reazioni alla cessazione dell'attività del ristorante di Giulianova ci fermiamo andiamo in pubblicità prima però le previsioni del tempo poi la pausa quindi ci ritroveremo con la seconda parte di Mattino 6 grazie di nuovo buongiorno e ben ritrovati con la seconda parte di Mattino 6 di questo sabato 7 gennaio 2017 riprendiamo con l'argomento mal tempo sulle pagine del messaggero Abruzzo strade bloccate nel pescarese passeggeri furiosi in aeroporto a 14 a 25 chiuse disagi a causa dei tir sull'asse attrezzato voli ritardati e cancellati un aereo colpito da un fulmine il volo per Londra è riuscito a partire poi altra chiusura per Torino Bergamo e Francoforte l'odissea continua poi ancora manto di due metri a schiavi a Chieti emergenza ghiaccio soccorsi centinaia di automobilisti rimasti intrappolati a Pizzoferrato rotture e blackout acqua a singhiozzo e poi ancora Montorio fuoristrada il pullman dei ragazzi di San Gabriele circolazione difficile ad Atri e tra Silvio e Pineto problemi a Teramo per acquedotto e reti elettriche l'alto sangro in ginocchio e anche emergenza sanitaria scaffali di supermercati e piccoli negozi presi d'assalto dai turisti presi dal panico due anziani isolati a Pesco Costanzo in località Bosco di Sant'Antonio anche nei principali centri abitati continuano interruzioni di energia elettrica 21 ore da Napoli a Pescara con il bus tua il drammatico racconto di un pendolare io prigioniero di una cattiva organizzazione e poi meno 20 sul Gran Sasso e oggi si annuncia ancora più freddo vediamo nel prossimo servizio la situazione come si era registrata fino a ieri sera nel Terramano giornata impegnativa per le cattive condizioni atmosferiche su tutta la provincia di Teramo con forti raffiche di vento e neve e temperature sotto lo zero i mezzi dell'ente e quelli delle 44 imprese esterne sono tuttora impegnati sulla lunga rete provinciale per garantire la transitabilità da ieri sono al lavoro complessivamente 83 mezzi per mantenere pulite le principali via di accesso e spandere il sale ad Atri sulla provinciale 553 gli operatori della provincia e la polizia di stato sono dovuti intervenire per far ripartire un camion al quale si sono rotte le catene e che è rimasto fermo sulla carreggiata bloccando il transito nel triangolo Silvia Tripinetto si sono registrate le situazioni più difficili a causa di una bufera di neve che si è placata solo nel primo pomeriggio spazza neve e sale anche in vibrata dove le strade più critiche sono la provinciale 8 e la provinciale 3 preoccupazioni per le prime ore del mattino di domani viste le temperature sotto lo zero è considerato che la provincia in queste ore ha devoluto circa 1500 quintali di sale ai comuni che avevano terminato le scorte disagi inevitabili con condizioni atmosferiche così avverse ha dichiarato il presidente della provincia Renzo di Sabatino per questa è necessaria la collaborazione dei cittadini anche il sale con temperature sotto lo zero non riesce a svolgere la sua funzione e a sciogliere il ghiaccio che comunque si riforma un attimo dopo tutti devono usare catene e gomme termiche anche quando la strada è sgombra e ci sono pericolosi tratti di ghiaccio circa le evoluzioni delle prossime ore il punto con il nostro meteorologo Luca Mennella per quanto riguarda le precipitazioni che sono previste nelle prossime ore dalla mappa delle precipitazioni previste fino alle 12 di domani pomeriggio risultano ancora piuttosto intense soprattutto per quanto riguarda il medio e il basso adriatico dove sono attese ancora delle nevicate le temperature sono in ulteriore lieve diminuzione fino alla giornata di oggi poi da domani tenderanno lentamente a salire per poi attestarsi su valori medi nel corso della prossima settimana Cambiamo ora argomento anzi prima prima di lasciare l'argomento del maltempo vediamo anche delle immagini piuttosto fresche intanto a Pescara questa mattina questa mattina presto intorno alle ore 5.30 immagini girate dal nostro Maurizio D'Aguì e qui siamo nella periferia anche all'altezza di Spoltore la zona di Villa Raspa e poi qui siamo sulla stradale vedete insomma anche il manto il manto stradale coperto da una coltre bianca qui siamo nei pressi della stazione se non vedo male la stazione di Pescara anche in questo caso vediamo uno strato di neve che ricopre il manto stradale chiaramente per tutta la notte anche sulla costa temperature abbondantemente al di sotto dello zero con anche la formazione di ghiaccio che rende particolarmente difficile la circolazione chiaramente oggi nel corso del nostro notiziario nel corso del Tg6 vi daremo tutti gli ultimi aggiornamenti e magari anche parleremo delle polemiche che si sono innescate a Pescara anche di natura politica sulla gestione del maltempo si è parlato ad esempio della mancanza di una quantità necessaria dovuta di sale con problemi soprattutto nella zona di Pescara Colli dove secondo molti queste zone appunto sono state un po' abbandonate a loro stesse e la mancata applicazione del sale in molte zone della città ha compromesso la viabilità possiamo vedere grazie a Maurizio da qui per queste immagini molto molto fresche di circa un'ora e mezza massimo due ore fa vediamo anche la situazione a Teramo queste immagini si riferiscono a ieri sera qui se non sbaglio siamo a Piazza Dante a Teramo ci sono questi cumuli di neve che è stata spalata per liberare la piazza però insomma situazione non facile ma comunque sotto controllo anche a Teramo anche in questo caso noi vi rimandiamo intanto qui vediamo il passaggio di mezzi spazzaneve e spargisale nei pressi della stazione ferroviaria di Teramo qui siamo invece in pieno centro città vi dicevo anche in questo caso vi rimandiamo alle edizioni ieri del nostro notiziario per tutti gli aggiornamenti del caso comunque anche questo camera car dice molto di quella che è la situazione nelle ultime ore anche in questo caso vediamo la strada ricoperta da ghiaccio più che altro e siamo nelle vie principali della città poi chiaramente la situazione è un po' più difficile nelle vie più piccole più strette del centro va bene possiamo proseguire grazie a Maurizio da qui possiamo chiudere per ora un argomento maltempo andiamo con altri titoli siamo a Pescara Pescara Porto pasticcio bipartisan Erika Alessandrini la delibera da riscrivere potrebbe approdare in aula il 16 ma il PD continua a fuggire dal voto il centro-destra oggi si dichiara contrario alle case sul mare ma il primo via libera arrivò proprio sotto la giunta Mascia l'assessore Civitarese ha chiesto la revisione del documento perché in contrasto con gli indirizzi dettati dall'esecutivo bimbi in festa per la Befana del mare la neve non ha fermato l'iniziativa di Padovano e di Santo con la vecchina in barca grande entusiasmo al porto turistico quella di ieri al Marina è stata l'edizione numero 16 non potevamo tradire la fiducia dei nostri piccoli amici altri eventi si sono tenuti nei centri commerciali l'arca ha rinviato al 15 prossimo all'Aquila Epifania obiettivo 70 500 stalli e il corso rinato nonostante il mal tempo bilancio ok e si pensa già alla festa del prossimo anno unico neo la forte presenza di abusivi super lavoro dell'ASM all'alba tutto pulito e poi PD candidato a metà mese freddezza sulle primarie sembra canere nel nulla l'appello lanciato da socialisti d'ex IDV in Marsica il Salviano diventa riserva via al progetto le carte per definire la questione sono state inviate in regione poco prima della festività dell'Epifaniva il sindaco di Pangrazio esulta e ora prolungheremo verso Cese anche il passaggio pedonale ci sarà anche un'area esterna di protezione ultimati i lavori ad Avezzano sempre meningite cala la febbre ma il quadro resta grave il quadro della donna di 51 anni ricoverata al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano avanti con le pagine di Chieti e provincia la provincia mette in vendita le pistole ora non sono più necessarie all'ente si tratta di 11 armi Beretta erano degli agenti che intanto si sono trasferiti l'ente prova anche ad affittare alcuni negozi in via Argnense si possono trasformare in uffici il decreto firmato nei giorni scorsi dal presidente della provincia Pupillo e poi Sevel turni saltati e polemiche la neve colpisce anche la fabbrica più grande d'Abruzzo caos viabilità ma bisogna produrre per far fronte alle commesse proteste per i premi di risultato quello più sostanzioso assegnato alla Ferrari la Brozzi della FIOM servirebbero nuove assunzioni più morbida la posizione della CISL la ditta annuncia tre giorni di straordinario siamo ora nelle pagine di Teramo e provincia a Teramo saldi la partenza è a rilento piano assieme ai negozianti a Corso San Giorgio si spera di recuperare dopo i ritardi per la nuova pavimentazione il meteo non ha di certo aiutato ma c'è un cauto ottimismo sulla ripresa Giuseppe Grande ci preoccupano soprattutto i tempi lunghi delle verifiche strutturali e poi ancora Tiziano Lattanzi ospita VIP come la Padula la qualità vince sfoglia serve un piano di rilancio e poi appello allevatori salvare le stalle non sono arrivati i moduli stabiliti tutta colpa dei tempi lunghi della burocrazia e infine sulla costa Giulianova punta sull'ospedale della costa riunione notturna a Palazzo per trovare una soluzione comune tra tutti i gruppi politici e spunta anche questa nuova proposta condivisa Arboretti chiede anche che l'attuale struttura venga trasformata in nosocomio di primo livello abbandonano la sala Retco e Ragni Filipponi non dobbiamo rinunciare ai nostri soldi e convoca i big del PD lasciamo il messaggero Abruzzo andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano la città ecco qui maltempo dopo la neve scattata l'emergenza ghiaccio molti comuni sono rimasti senza sale regione e provincia prestano la salgemma per liberare le strade da ieri sera sono disponibili 200 quintali di salgemma in più distribuiti dalla protezione civile regionale la priorità ora è evitare il ghiaccio lungo le strade provinciali e poi ancora come al solito non sono mancate critiche sul piano neve nonostante non ci sia stata alcuna emergenza sono tante le proteste piovute nei quartieri e nelle frazioni rimaste più isolate niente autostrada tira ancora deviate aeroporto riaperto e subito chiuso odissea per 150 passeggeri a terra disagi anche sulla costa per neve e strade gelate spiagge imbiancate difficoltà nelle frazioni collinari a causa delle bufere e delle temperature a Silvi difficoltà lungo la strada che porta al paese un pino si è schiantato su una casetta di legno incontrata a canale necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuoverlo e poi ancora Giulia Nova la neve ha portato alla scoperta di un cedimento nel tetto della chiesa della misericordia disagi per il ritardo degli spargi sale entrati in azione solo attorno a mezzogiorno poi ancora cambiando argomento Teramo hanno nuovo problemi vecchi la viabilità rotatorie piazze parcheggi e piano urbano del traffico ecco il primo elenco delle promesse non mantenute dall'amministrazione necessario dal 96 commissionato non una ma due volte compreso l'aggiornamento in attesa di essere approvato dall'inizio del 2016 ma rimasto ancora nel cassetto ovviamente parliamo del piano urbano del traffico politica azzurri in vetta in attesa della consulta oggi e domani a Roccaraso la tradizionale kermess forzista presenti Gatti Brucchi e Fanini tra gli argomenti la legge elettorale nel centro-destra si attende l'esito del pronunciamento sull'italicum avanti ancora a Sant'Egito pronta la scuola media al centrofiere a due mesi e mezzo dal sisma gli studenti hanno una sede Giulianova nuovo baluardo dell'antica liuteria oggi apre la bottega raditigiana del maestro Tribotti per l'occasione aperto in via eccezionale il museo Braga sempre a Giulianova Giovanardi ha solo obbedito al sindaco l'assessore dimissionario paga per le critiche sul sociale alla Cameli altro che impegni professionali è stato Mastro Mauro il sindaco dunque a chiedere a Giovanardi un passo indietro la cronaca due villette a fuoco a Roseto e Mutignano di Pineto roghi innescati dalle canne fumarie malfunzionanti una famiglia costretta ad abbandonare casa andiamo a vedere le pagine dello sport ecco qui il Teramo sale in quota trattativa con Romero l'attaccante della Feralpi Salò è l'obiettivo numero uno della dirigenza Jefferson non va alla San Benedettese in uscita dal Salò con l'arrivo da Trapani di Ferretti gli spazi per la punta si riducono il Teramo è alla finestra Jefferson non sarà rosso-blu l'amministratore delegato della Samba Andrea Fedeli sento questa cosa per la prima volta e poi ancora speciale San Nicolò amichevole con il Delfino più bianca che azzurro e San Nicolò ha affrontato la squadra di Massimo Oddo ma al poggio una fitta nevicata ha interrotto la gara al 75esimo ricordiamo che domani San Nicolò non giocherà il big match con la Fermana perché causa maltempo la partita è stata rinviata al pari di Campobasso Pineto basket Roseto suona la nona Verona senza scampo gli Sharks iniziano il nuovo anno nel migliore dei modi e tornano a vincere anche grazie a una grande prova di squadra domenica si va a Trieste il prossimo impegno degli squali in trasferta su un parquet molto complicato e poi in basso la Globo Info Service Campi vince il derby contro Giulia Nova con un grande ultimo quarto prima di tornare sui quotidiani locali un rapido sguardo alla prima pagina di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport ecco qui la Gazzetta pronti ripartenza via c'è una piccola crepa nel muro della Juve chi ne approfitta oggi con la Samp vediamo subito come sta il Napoli Empoli-Palermo per la salvezza oggi riparte il campionato di Serie A Inter Revolution con Dovà ecco Luis Gustavo e un'altra sfida alla Juve poi tutto mercato Roma c'è Fegulì Toro preso Carlao ora Punta Castro Kalinic oro cinese e poi ancora Gigio fa cinquante il ragazzo ha imparato a volare nel Milan nessuno come Donnarum Rivera ha fatto più partite a 17 anni 10 mesi e 14 giorni ma esordì nell'Alessandria e poi ancora alcuni richiami ecco qui Orsolini io l'università e 500 messaggi di chi chiede se vado alla Juve il figlio di Maradona papà insista quel teatro e Napoli è con lui e poi ancora Bologna derby magia in 9000 basket city alla fine delirio Virtus vittoria ai supplementari per la Virtus allenata dall'ex coach del Teramo Basket Alessandro Ramagli Corriere dello Sport titolo d'apertura Fuga Juve chi la ferma il torneo in cento domande Allegri favorito Napoli e Roma ci provano poi sotto la testata il mercato l'intrigo Keita Gagliani vuole acquistare l'esterno della Lazio subito anche per l'assalto alla Champions Mirabelli e Fassone sembrano orientati a rinviare l'estate Bianco Celesti vicini a il Gazzi e poi di spalla tu per tu con Picchio Desisti nell'intervista di Walter Veltroni la mia storia dalla periferia alla steca ho imparato tanto da schiaffino quel 4-3 con la Germania festa dell'adrenalina e poi in basso gli anticipi Sarri lancia in Napoli vinciamo un trofeo possiamo lasciare il Corriere dello Sport torniamo alle pagine dei quotidiani abruzzesi in particolare siamo sul centro ecco qui c'è il mercato come sempre che impazza anche se domani si dovrebbe usiamo il condizionale tornare in campo usiamo il condizionale per via delle condizioni meteo Girardino Pescara è fatta ora si punta su Montari e questo è il nome delle ultime ore quello di Sallei Montari trovata l'intesa con il bomber si aspetta la risposta del ganese ex Milan l'attaccante lunedì rescindere con l'Empoli e si legherà ai biancazzurri fino al 2018 la neve rischia di far slittare la gara di domani queste le condizioni a ieri mattina ma sicuramente la situazione del meteo è in continua evoluzione e poi ancora parla l'ex Granata Bovo non sono finito arrivo per rilanciarmi l'esperto difensore prelevato dal Torino potevo essere qui già la scorsa estate però Mihailovic bloccò tutto la salvezza è difficile ma non impossibile allora ieri appunto ha parlato in conferenza stampa e si è presentato il neodifensore Cesare Bovo ascoltiamo le sue parole ma le prime impressioni sono state buone io sono contento di essere arrivato ho trovato un ambiente positivo molto familiare e comunque un gruppo di ragazzi che ha voglia di fare un gran girone di torno quindi io mi aggiungo a loro mi accodo e c'è tanta classifica stimoli di rimettermi in gioco purtroppo arrivo da sei mesi iniziati benissimo e poi disastrosi calcisticamente parlando e a 33 anni non mi sento assolutamente alla fine anzi ho voglia di ho voglia di giocare ho voglia di e sono venuto qui per rimettermi in gioco di aiutare la squadra cercare di dare una mano e credo che l'obiettivo comune sia sia chiaro e sono passato da giocare sempre a non giocare più ecco abbiamo ascoltato dunque una buona parte dell'estratto della conferenza stampa del neodifensore del Pescara Cesare Bovo rientriamo e siamo sul messaggero Abruzzo proprio con il neodifensore ecco qui ho voglia di salvezza il difensore sono arrivato con grandissime motivazioni non mi sento a fine carriera vengo per rimettermi in gioco ad agosto per il Toro ero incedibile poi non so cosa sia successo resta l'arena difficile ma non impossibile una difesa tutta nuova anche con l'innesto di Guglielmo Stendardo e allora Gionber in partenza mi sento pronto tornando a Bovo per giocare subito del resto la gara è l'allenamento più efficace per un calciatore sul fronte Fiorentina nuovo infortunio per Borca Valero che quasi certamente domani sempre se si dovesse giocare la partita non ci sarà e per l'arrivo di Girardino inizia la volata decisiva servono i tempi tecnici per liberarsi dall'Empoli e poi l'ex attaccante della Nazionale sbarcherà in Abruzzo poi ancora sul fronte Teramo c'è Romero in testa alla lista del Teramo per il basket un roseto da applausi manda K.O. Verona gli Sharks sempre in vantaggio si impongono per 81 a 65 Fulz Elogia Smith Amoroso punti preziosi per la salvezza i Biancazzori privi di Radonic spezzano la serie di tre sconfitte gara sospesa per un blackout tornando per un attimo al calcio l'Aquila ci crede malgrado le defezioni domani importante big match per l'Aquila sul campo del Monterosi seconda contro terza se le partite delle abruzzesi nel Giron F non si giocheranno anche causa maltempo al momento sono confermate le partite tra Vezzano e Sansepolcro e tra l'Aquila e Monterosi a Monterosi pallavolo rabbia sieco lanci duro arbitri così non va in basso il Pescara difende il primato in classifica ospitando la Lazio al Pala Rigopiano e poi per il ciclismo oggi la presentazione della Vini Fantini appuntamento alle 15 e 30 al Teatro Tosti di Ortona finiamo qui con l'edizione odierna di Mattino 6 la nostra rassegna stampa ma per tutti gli ulteriori aggiornamenti in particolare legati al maltempo alla neve al gelo che stanno attalaniando la nostra regione vi rimando al TG6 delle ore 14 e poi alle successive edizioni delle ore 19 e delle ore 23 per ora grazie per l'attenzione grazie a Maurizio da qui in regia grazie soprattutto a voi per la cortese attenzione io vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti